Ciao Samuele, buongiorno, quarta A del convitto nazionale Mario Pagano. Senti, questa mattina siete venuti per assistere alla preparazione del caciocavallo podolico. Come è andata? Bene. Vi siete divertiti? Che avete fatto? Eh sì, avevo visto un filmato sulla transumanza e dopo un po' gli abbiamo parlato, poi sono un di questi signori a preparare questi formaggi e ce li hanno dato insieme un po' di pane. Com'erano? Buonissimi. Buonissimi? Sì, immagino che si hanno piaciuto a tutti quanti. Che cosa ti ricorderà di questa mattinata? Eh, un po' difficile, mi saprei. Come si preparano questi prodotti? Qual è la caratteristica che hanno? Vediamo prima di tutto, bisogna prendere dell'acqua bollente, e poi c'è questa specie di grande palla, di latte mortarela, poi si deve tutto fare, ha una specie di striscia. Una triccia, diciamo. Eh, diciamo, e poi si fanno questi nodini con una piccola di striscia qua e un po' si staccano, si mettono di nuovo l'acqua. Poi sono pronti per essere gustati. E poi si mangiano. Certo. Tu che hai assaggiato? Vediamo i nodini con un po' di pane. Questi nodini che vediamo? Certo. Senti, ti piace il lavoro che fa Franco Colantuono, questo signore? Certo, sì, molto bene. In un futuro ti piacerebbe visitare la loro azienda, oppure interessarti di queste cose? Se vorrei mancare, in futuro forse decidere la loro azienda. Va bene. Allora, buona giornata e buon proseguimento. Grazie.